Il sistema WOSM, World Open Source Monitoring, si basa su un'attività di open source intelligence ed è lo strumento di monitoraggio tecnologicamente più avanzato al mondo. È in grado di seguire in tempo reale scenari d'opinione, sviluppo di trend ed eventi internazionali in ogni angolo del pianeta. Limitiamo il campo temporale. Inseriamo le keywords. Sulla mappa appaiono le aree colpite da eventi meteo estremi. Australia, onde gigantesche attirano migliaia di surfisti sulle coste. Medio Oriente, si registrano abbondanti nevicate. Europa, comunicazioni in tilt per le mareggiate che investono Inghilterra, Francia, Spagna e Portogallo. Stati Uniti, Ice Storm, massimo allarme. La mappa si dettaglia. I video ci portano dentro la realtà in atto. Montana, la temperatura percepita è di meno 52 gradi centigradi. Incetta nei negozi a Chicago e New York. La tempesta di ghiaccio e neve ha colpito 140 milioni di persone in oltre 20 stati. Ecco tutte le fonti disponibili, divise in radio e tv, stampa, web. Danni economici, ancora incalcolabili al territorio e alle infrastrutture, blocco delle attività lavorative, traffico aereo in crisi, 3399 i voli cancellati, 4900 i voli in ritardo. Per circoscrivere le informazioni si utilizzano le keywords o il menu proposto dal sistema. Inoltre sono disponibili mappe, filtri e grafici interpretativi. Gli hot topics. I personaggi. Le mappe di interazione. Il mood che emerge dalla popolazione. In tempo reale, UOSM, World Open Source Monitoring, si aggiorna e ci permette di costruire e memorizzare il nostro percorso informativo. Tutto ciò è possibile perché UOSM gestisce miliardi di notizie, che raccoglie da una vasta rete di fonti, coprendo 70 paesi e 14 lingue. La potenza di UOSM risiede nella sistematizzazione di tutto ciò che viene prodotto da ciascuna fonte monitorata nel mondo. I dati vengono ordinati e interpretati con l'utilizzo integrato di tecnologie provenienti dall'area ricerca e sviluppo di VDR. Speech to text. Riconosce e trascrive automaticamente il parlato presente in file, audio e video. Web screening. Scandaglia. Archivia e cataloga le informazioni del web e dei social network. Audio frequency search. Distingue e individua specifiche tracce audio. Video scanner digitale. Rintraccia automaticamente brand, prodotti e volti umani nei file video. Automatic Semantic Reader. Legge, comprende e interpreta in chiave semantica ogni trascrizione audio o testuale ricavata dalle fonti. Queste tecnologie applicate al monitoraggio permettono a VDR di analizzare uno specifico argomento o evento seguendo in tempo reale gli scenari e motivi generati e il percepito dall'opinione pubblica, distinguendo il livello nazionale da quello internazionale. L'expertise di VDR che ha portato alla progettazione e realizzazione di WOSM proviene dai servizi di monitoraggio forniti in 20 anni di attività ad oltre 600 clienti internazionali. Presto, nel sistema WOSM verranno integrati anche Eye Tracking, sistema di rilevazione a raggi infrarossi che analizza i movimenti oculari degli utenti posti di fronte a stimoli visivi, statici o dinamici. Neuromarketing, che analizza le attività cerebrali e cardiache di individui sottoposti a stimoli visivi o sensoriali.